Alla molla non è agganciato nessun pesetto. Misuriamo la sua lunghezza a riposo. La lunghezza L0 della molla a riposo è 5 cm. Appendiamo ora un pesetto e rileviamo la nuova lunghezza L1 della molla. La nuova lunghezza L1 della molla è 7 cm. L'allungamento ΔL1 sarà dato dalla differenza tra L1 e L0. Si ha quindi che ΔL1 è dato da 7-5, cioè vale 2 cm. Nella prima colonna riportiamo l'allungamento ΔL, uguale a 2 cm. Nella seconda, il numero di pesetti appesi, 1. E nella terza colonna, il rapporto tra il numero dei pesetti e l'allungamento, 1 diviso 2, uguale 0,5. Riportiamo i dati in un grafico cartesiano. Sull'asse delle X riportiamo l'allungamento ΔL di 2 cm. E sull'asse delle Y il numero dei pesetti, che in questo caso è 1. Ora appendiamo due pesetti uguali ai precedenti e misuriamo la lunghezza totale L2. La nuova lunghezza L2 della molla è 9 cm. L'allungamento ΔL2 è dato dalla differenza tra L2 e L0, quindi 9-5 uguale 4 cm. Nella prima colonna riportiamo l'allungamento ΔL, uguale a 4 cm. Nella seconda, il numero di pesetti, 2. E nella terza, il rapporto, 2 diviso 4 uguale 0,5. Riportiamo sull'asse X l'allungamento di 4 cm e sull'asse Y il numero dei pesetti, 2. Appendiamo tre pesetti uguali ai precedenti e misuriamo la lunghezza totale L3. La lunghezza L3 è 11 cm. L'allungamento ΔL3 è dato da L3-L0, quindi 11-5 uguale 6 cm. Pertanto, avremo ΔL uguale 6 cm, il numero dei pesetti uguale a 3, il rapporto 3 diviso 6 uguale a 0,5. Riportiamo sull'asse X l'allungamento di 6 cm e sull'asse Y il numero dei pesetti, 3. Ora eseguiamo l'ultima misurazione con 4 pesetti. La lunghezza L4 è 13 cm. L'allungamento ΔL4 è dato da L4-L0, cioè 13-5 uguale a 8 cm. Pertanto, avremo ΔL uguale a 8 cm, numero di pesetti uguale a 4, rapporto 4 diviso 8 uguale a 0,5. Riportiamo sull'asse X l'allungamento di 8 cm e sull'asse Y il numero di pesetti, 4. Si forma una retta passante per l'origine. Osserviamo le prime due colonne della tabella. Raddoppiando i pesetti, raddoppia l'allungamento. Triplicando i pesetti, triplica l'allungamento. Quadruplicando i pesetti, quadruplica l'allungamento. Si tratta di grandezze direttamente proporzionali. Il rapporto è costante ed è una proprietà delle grandezze direttamente proporzionali. Il grafico di grandezze direttamente proporzionali è una retta passante per l'origine.